A milioni di europei vogliamo una nuova Europa democratica. Democratica, trasparente, giusta, ambientalista e accogliente per tutti. Quando inizia questo processo? A Roma, il 23 marzo. Come inizia? Con il dialogo, la discussione, lo scambio di idee. Con chi? Tutti insieme. Aiutaci a renderlo possibile. A rimanere indipendenti. Aiutaci a garantire lo streaming, l'interpretazione. È un luogo per un dibattito di qualità. Supportaci! Partecipa al dibattito a Roma. Cambiamo l'Europa insieme!